Buongiorno a tutti, io sono Francesca Rivi, sono una dei soci puntatori dell'Unione del 2008, noi siamo quattro soci dai 30 e 45 anni, quindi nella vita non facevamo i cuori, facevamo tutti altro, ma facciamo ancora tutti altro, vuol dire che anche uno dei nostri turisti è un progettista bibliatico, una musica che ha studiato, un istituto tecnico di posto, che fa ancora questo mestiere, ma ha imparato a fare i tipori. Quando Laura e il capiente hanno invitato a questo intervento, devo dire che ne siamo stati molto orati, sono molto emozionata, perché abbiamo invitato, come spesso, a parlare ad un futuro così giovane, ma il tema dell'intervento ci ha piaciuto moltissimo, cioè costruire il futuro sulle plane del passato, perché quello che noi facciamo è cercare di portare la loro tradizione verso il futuro. La prima cosa che vi chiedo di fare è il sondaggio, che vi faccio è questo. Dovete dirmi, secondo voi, magari qualcuno lo sa, dovrà digitare, che cos'è questo oggetto. Dovete andare su www.net.com, dovete digitare questo codice, ascoltate al caso qualsiasi imparato? Quasi c'è, cosa? Novi sei, sei sei, sette otto, sette ero, e vi compaganno il sondaggio. Il sondaggio è questo. io contempo la natura e non tengo cosa? 12 puoi scusci a svegliare? 9-6 6-6 7-8 7-0 ok, vi do un po' di tempo che oggetto è questo? ragazzi, volete visitare, non parlare negatono un fobbellino da cera d'acqua un telecomorso un fobbellino da rampeggio uno schiaccio a votate neve che traduce votate vai schede schede ok 3 2 1 non lo potete vedere ma io vedo le vostre risposte ok, allora la maggior parte di voi ha digitato schiacciapatanne lo schiacciapatanne lo schiacciapatanne noi i croteri a cui lo utilizziamo ma lo affidiamo non questo è una fornitino elettrico per cera d'acqua che ancora ma pure torniamo che cosa utilizziamo? lo utilizziamo per scendare grazie venite il risultato lo utilizziamo per scendare la cera d'acqua la cera d'acqua che utilizziamo da corne sopra il nostro video che ci osserva la cera d'acqua lo scendiamo qui con il fobbellino elettrico una volta che diva rispettata a candela perché dobbiamo portarci questo elettrico? un elettrico che riguarda la base del nostro lavoro che è l'artigianalità un'artigianalità che veniva ottengata al nostro tempo e che è utilizzata anche oggi quindi il mettere la cera d'acqua sul boccino osserva è una pratica che viene fatta in ordeglia sempre oggi lo utilizziamo per le necessità di scendarla ma il lavoro è completamente manuale infatti vedete c'è una persona, la mia socia che si occupa di accorre la cera d'acqua e quindi è più tipico vi racconto la nostra storia la storia che comincia da lontano e non solo lontano, veniamo ma anche lontano geograficamente tutte le piscinerie di Sessuolo non commentatevi sulla storia di Sessuolo perché è qualcosa di pubblico innanzitutto non nasciamo come ceramica ma nasciamo come nessuno commerciale e produttivo di altri piatti di genere la nostra storia come spezzerie e truggerie arriva dagli svizzeri in particolare la mia azienda è dedicata a grazia indigia e dai cantoni religiose scappare da questioni religiose e venne a Sessuolo e fondando quella che oggi ci sono i numeri che voi forse conoscono come la progenia Roteglia se non conoscete la progenia Roteglia vi chiedo la potenzia di andare in Ciazza Puccola e Piazza Garvalli e visitarla un po' alla porta dalle Sessuolo perché merita da niente questa storia inizia nel 1848 quello che avete qui è un premio vinto all'esposizione internazionale di Torino del 1848 del 1884 sapete cos'è l'esposizione internazionale? oggi si chiama Expo chi non è stato Expo a Milano? siamo stati tutti ok, anche una volta si facevano le sposizioni internazionali e poi avevano un riscorto molto più commerciale cioè si portava avanti prodotti difficili del territorio e quindi si avevano il confusione di essere premiati una storia che passa anche da qua non tutti lo sanno ma la distilleria dell'Oteria ha appunto come dettaglio anche la famiglia Marazzo proprio Filippo Marazzo colui che poi ci mette l'attività alla famiglia dell'Oteria e aprì il luogo dove noi oggi ci troviamo è una storia che intreccia famiglie e intreccia il cuore appunto li invito a conoscere e visitare l'Oteria dell'Oteria che è la parte commerciale che non c'entra più con noi però è veramente un luogo di ricordi e di scoperti fino ad arrivare i giorni nostri qua sono solo tre i miei soci dell'Oteria pochissimo siamo tutti quanti quattro e abbiamo passato tra di più la nostra media età una storia che nasce con un piano dito perché in realtà nessuno di noi sviluppa il proprio lavoro non aveva competente in merito ma aveva ancora una grande passione per le proprie aggine quindi origini che non dimentica tutti noi siamo in questa scuola siamo in questa scuola per le nostre proprie aggine abbiamo deciso di imputarci fare un investimento in persone siamo persone non ci vogliono e abbiamo deciso di acquistare la destineria un piano a chi cerchiamo di portare avanti con l'intento di dargli questo tipo quindi un piano dito che speriamo un giorno che vedi un piano dito quindi non riconoscerebbe loro la piu' del contigo non solo abbiamo fatto nel 2020 un esperimento che è stato un grande successo tutti voi sapete cosa è successo a marzo di 2020 ci siamo arrivati in una situazione complicata facciamo i cuori e lavoriamo con una persona che degusta di assaggio all'ordinamento i nostri prodotti non potevamo più avere aiutato con uno ma avevamo ottenuto perché una delle materie prime e più importanti è l'alcol quindi cosa abbiamo creato? abbiamo creato un igienizante anti-sky un igienizante anti-sky al sassolino quindi all'interno uno dei cuori questo prodotto ci ha permesso di essere presenti sul mercato di non perdere il fatto ma allo stesso tempo di essere più vicini alle persone in generale perché perché mi giuro che sputtare in bocca un po' di questo igienizante tanto un po' di gioia il normale il normale però rispettiamo le tradizioni quelle sono le malli da Andrea intorno alla fine di giugno quando noi facciamo completiamo il ciclo produttivo veloci no? non pensate che ci saranno su una macchina questo si fa tutto a mano quindi quelle su questo non è l'aria per provare a colito ma sono le malli il frutto della noce e una roba viene dagli altri macchia le malli e si trovano già i grandi si trovano più da mille altri nuovi mani sicilici per cui non hanno incendenti rispettare la tradizione per costruire il futuro anche noi introduciamo i cuori i spillati che hanno un ottimo attento alla porta ad esempio il nostro gino ma quel gino la cosa più bella che ha dal mio punto di vista è il fatto che l'etichetta ricorda una persona l'etichetta perché il nostro intento c'è prendere il sassuolo e portarlo fuori l'acqua perché come dice sembrano le cari cliente lo sanno se non ce l'abbiamo niente questo è tutto vi ringrazio spero di avermi compriusiti se volete visitare la destina di Gerotelia visitando il nostro sito e trovate i nostri contanti e potete prendere l'appuntamento ricordatevi di bere grazie 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 Grazie.